Siamo qui c'è via Siamo qui c'è via Aumento un po' la frequenza Sia che di stare sui 26 circa Così bravo Vi do i tempi ma ci fermiamo a 2.40 Decidiamo in base a quante calorie siamo Massimo 2.50 così ti vai a sentare sullo snatch L'obiettivo nostro è sui 2.40 45 circa all'obiettivo Bene Siamo tutti in previsità da fare. Dai, altri 15-20 secondi, con 5-6 calorie da fare, 4, scusa, 3. Sì, torniamo a 46, poi ci fermiamo. Tira, 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, brava. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Bravissima, sono passati 38 secondi. Siamo già a 8, eh? Dai, un'altra trippa, andiamo avanti di trippe. 9, 10, 11, giù. Facciamo altre due triple circa, poi facciamo singole, eh? Facciamo un minuto adesso, vai. Due triple, poi singole. Siamo a 11, 12, 13, 14, giù. Un'altra tripla, andiamo. 15, 16, 17, giù. Manca 20 secondi, facciamo delle singole, siamo a 17, bisogna andare a 20. Sono tre singole, prezzo, tre singole, vai. Una, giù. Due, 19, 30, sta un'altra. Giù, basta. Ok, gesso. Tre, due, uno. Ok, 5 minuti. Manca un minuto adesso, eh? Quelli che hai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Brava. Dieci. Brava. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Manca 30 secondi. Dai, altri dieci. Altri dieci che ce li hai. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque. Va bene, 20 secondi. Dai, dobbiamo fare cinque. Poi dobbiamo avere un ricostalger. Cinque. Sedici. Diciasette. Diciotto. Diciannove. Vieni qua. Dieci secondi. Vai, quelli che vengono. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque. Buon appetito. Buon appetito. Bravo.